Celle colorate supraeconomiche, colori acrilici supraeconomici e bianco di Amsterdam. Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati da Francesca su Figaro Art. Oggi faremo delle celle super colorate e supraeconomiche. Economiche perché utilizzeremo dei colori acrilici davvero molto molto economici. Io userò questi qua, potete usare quelli che volete, io questi li ho comprati nella catena di negozi Tedi, ogni tanto ve la cito perché comunque è una catena tedesca che rivende prodotti cinesi, ma è abbondantemente diffusa in tutta Italia e anche in Europa. e hanno davvero cose a basso costo. Questi sono un box di 4 barattoli, il tutto a 3 euro, quindi meno di così direi che non può esistere davvero nulla. Io utilizzerò oggi il giallo, l'azzurro e il rosso, lascio stare il bianco perché come bianco userò questo qua. Li mischerò con il Fluetrol. Potete tranquillamente utilizzare anche un fissativo da muro per questa tecnica qui. Vedete? Sono molto duri, molto spessi. Quindi ci vorrà molta acqua per raggiungere la consistenza che ci servirà. Quindi andremo a fare queste celle quasi perle perché la tecnica comunque è quella della perle pur, ma saranno celle coloratissime e con una copertina bianca. Quindi mettiamo all'opera i nostri colori e vediamo che cosa ne viene fuori. Buona visione! Grazie! 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 Eccolo qui! Tante celle super colorate!